Non so se ci siano che nel resto d'Italia, ma quassù, nell'autonomo Trantino Alto Adige, vanno ancora oggi molto di moda i Sylvanian Family, questi pupazzotti animalomorfi che con gadget e atmosfere quasi provenzali hanno corredi che farebbero invidia alla regina Elisabetta, visto che hanno di tutto e costano più o meno come Buckingham Palace. E vedendo sti pupazzotti può non saltare in mente la glucosica patti con tutti i suoi animaleschi amici? Ovviamente no. E oggi dunque parte una potente operazione nostalgia, perché mi chiedo, quanti di voi ricordano Maple Town? La sigla della nostra musa Cristina D'Avena è peraltro la stessa usata per la versione francese di Flola Piccola Robinson. La cosa strana è che è un anime che la gente si è filato ben poco, ma era dotato pure di una colonna sonora molto articolata con un LP che conteneva una decina di canzoni, che però nessuno ricorda. Comunque, pensavate che Peppa Pig fosse la prima ad avere come cognome la propria razza? Io sono Peppa Pig! No cari, nel 1987 c'era già Patty Rabbit, staconiglia che è stata vestita come una Laura Ingalls versione roditore e che ha avuto il massimo momento di notorietà quando ha fatto da pupazzo in Sailor Moon alla povera Bunny. Dal resto, Bunny, Rabbit, un'esplosione coniglifera. Stapatti arriva con i genitori e le sorelle a Maple Town, città acero, e nella migliore tradizione dei cartoni gigiosi e pieni di sentimenti, passa 52 puntate a vivere le classiche avventure con gli amici animali, visto che questa città è una specie di zoo a cielo aperto, dove ognuno ha il suo lavoro, il suo ruolo, il suo stereotipo, visto che il poliziotto, che si chiama Otto, è un bulldog, cosa che già con i Fabuland era stata ampiamente sfruttata. Il sindaco è il leone. Ebbè, sei il re della foresta, vuoi non essere il re della città acero? La trama, potete immaginarlo, non c'è. C'è Stapatti e i suoi amichetti che vivono le loro vite animalesche con la rivale altezzosa e insopportabile, la Volpe Diana, che occupa uno un po' a Irisa di Candy Candy, mentre l'amico del cuore è l'orsetto Bobby. Poi negli anni tutti si sono sbizzarriti con svariate fanart e vabbà. Ma visto che la serie è in stile campagnolo non era abbastanza, che cosa fanno i produttori l'anno dopo? Non ti vanno a sfornare Evviva Palm Town? Dove la nostra eroina si trasferisce nella città palma dagli zii, che hanno la grana, perché sono due medici del locale ospedale. E qui via altre avventure con i nuovi amici, tra cui una cocker di nome Lori. Poi per fortuna ci sei fermati qui, perché passi la città Acero, poi la città Palma. Beh, a sto punto la città Piffero, il passo dovrebbe essere breve. Su Produttori, una piccola serie dedicata a uno youtuber disperato, metto anche le orecchie da Coniglio.